I lavori iniziati poco prima delle elezioni sul sito ormai conosciuto di Muraglia e Via Compagni sono fermi. Sono iniziati poco prima delle elezioni, il venerdì e il martedì già subito bloccati. Era uscito un post ancora non sindaco Biancani dove elogiava la sua squadra perché erano andati a parlare con la proprietà di questo manufatto. Chiedo ora al sindaco cosa è venuto fuori da quel colloquio. Siccome dal 10 giugno i lavori si sono bloccati, purtroppo si sta parlando di salute pubblica, quindi è un argomento che riguarda un po' a tutti, chiedo al sindaco e all'assessore quali sono i prosegui dei lavori, visto che hanno parlato comunque con la proprietà. Abbiamo già segnalato diversi siti all'amministrazione precedente, confido che col nuovo sindaco e il nuovo assessore all'ambiente si portino poi dei frutti a queste segnalazioni, cosa che fino adesso non sono avvenute purtroppo. Noi abbiamo delle situazioni come la zona Ipercop, Villa San Martino, l'ex Nava Villa Fastigi. Bisogna mettere in campo delle azioni per salvaguardare la salute perché anche lì si parla di manufatti, le cui bonifiche si chiedevano già dal 2011. Sono coperture non integre, non compatte, quindi c'è la possibilità di questa fuoriuscita di fibre. Chiedo solo al sindaco e all'assessore quali saranno le azioni che intenderanno mettere in campo per riuscire piano piano a togliere sempre più amianto dalla nostra città.